Ciao a tutti amici, sono Cacciotta l'inviato degli anni 80 e qui con me ci sono Pietro e Enrico del gruppo 80. Proprio così, ciao Cacciotta. Ciao a tutti gli amici. Ciao degli anni 80, noi gli anni ne abbiamo. Molti di più di 80. Molti di più. Noi facciamo due gruppi. Sì, 120. Sento l'odore di carota, 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 carota. Fai bravo. Guardate che faccio con le olive. No, no, no. Ciao Cacciotta. Ciao ragazzi. Ciao Massimo.